Ciao, buongiorno a tutti, eccoci qua ancora in questo momento settimanale di incontro. Oggi è il primo giugno, che bello il primo giugno. Allora, siamo in mezzo ai fiori, no? Maggio, giugno sono i mesi dei fiori, ma soprattutto maggio e giugno sono mesi di due fiori particolari. Voi direte no, la rosa, no, no, voglio parlare di due fiori spirituali. Maggio è dedicato al fiore più bello che è Maria. Giugno è dedicato a un altro fiore, al Sacro Cuore di Gesù. Attenzione, oggi voglio soltanto dire la mia passione per la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Sapete perché mi piace il Sacro Cuore di Gesù? Mi piace perché io vedo nel cuore di Gesù, vedo l'umanità di Dio, l'umanità di Dio incarnata in Gesù. Cioè, vedo Dio che mi si mette vicino e mi ama con un cuore umano. Se il cuore noi l'abbiamo detto come segno, simbolo, espressione dell'amore di Dio, dell'amore, cioè dell'amore in genere, ebbene io vedo nel cuore di Cristo l'amore palpitante di Dio per me. Insomma, Dio mi ha amato anche con un cuore umano, con un cuore umano mi ha amato. Io vedo nel cuore di Gesù l'infinito amore di Dio per ciascuno di noi. Questo mi fa davvero innamorare ancora di più dell'amore di Dio. Questo mi colpisce ancora di più, mi fa diventare stupefatto. Lo stupore dell'amore di Dio, pensare che Gesù aveva un cuore che batteva, batteva d'amore per me, per te, per noi tutti. Bello questo infinito amore di Dio manifestato nel cuore di Gesù. Un'altra piccola cosa. Voi sapete che se prendiamo l'oro, quando l'oro esce dalle viscere di una montagna, ad esempio, non è puro al 100%, o anche una pepita non è proprio a volte pura al 100%, ma è unita con altri metalli, con zinco, ferro, rame. Per avere l'oro puro si mette in un crogiuolo, cioè una fornace che va ad altissima temperatura. Poi, man mano che i metalli hanno una loro gradazione, vanno via. Ad esempio, lo stagno, quando arriva a 230 gradi, lo stagno va via. L'oro ancora no. Non so, ad esempio, lo zinco. Lo zinco a 400 e qualcosa va via. L'argento a 900, 800, 900, qualcosa va via. Rimane l'oro. L'oro a 1064 gradi, ecco, a oltre 1000 gradi, viene fuori l'oro puro. Sapete che dico? Perché non ci tuffiamo dentro il cuore infinito di Dio, che è come un fuoco d'amore? Noi ci buttiamo lì dentro e ci purifichiamo. E via, va via tutto l'egoismo nostro, va via tutto l'ateismo nostro, va via tutta la disperazione nostra, va via tutta l'incertezza nostra, vanno via tutti i peccati nostri e rimane, infuocati dall'amore di Dio, rimane l'oro puro della fede, l'oro puro dell'amore, l'oro puro della speranza, l'oro puro della vita cristiana. Che bello! Ecco il cuore di Gesù. Ragazzi, che vi devo dire? Buon mese di giugno e ogni giorno apritevi, apriamoci a questa immagine del cuore di Gesù, che è l'amore di Dio che si manifesta. fornace d'amore dove ci tuffiamo dentro per purificarci, per diventare oro puro della gioia e della bellezza e della vita cristiana. Ciao a tutti, buona settimana, ciao!